il seme dell'ambizione. Lascia che ti racconti di Daniel, un uomo che lavorava in un negozio di alimentari, sempre trascurato e poco apprezzato. Le persone passavano oltre, raramente riconoscendo la sua presenza. Si sentiva bloccato, o almeno così pensava. Una sera, è incappato in un corso online di marketing digitale. La curiosità è stata stimolata, quindi Daniel si è iscritto. Il corso era difficile, pieno di termini e concetti che non aveva mai sentito prima. Ma era determinato a capirlo, quindi ha continuato a spingere. Studiava prima del lavoro, durante le pause pranzo e fino a tarda notte. Lentamente, i pezzi hanno cominciato a trovare il loro posto. Daniel ha iniziato ad applicare ciò che aveva imparato per creare una piccola campagna di marketing per il negozio di alimentari in cui lavorava. Indovina un po'? Le vendite sono aumentate. Il suo capo era così impressionato che ha chiesto a Daniel di prendere in mano l'intero reparto marketing del negozio. Daniel ha accolto l'opportunità ed è eccelso. Due anni dopo, ha lanciato la sua agenzia di marketing. La sua attività è decollata, permettendogli di creare posti di lavoro e offrire opportunità ad altri che erano bloccati come lui un tempo. Quindi, qual è il punto? A Daniel non è stato consegnato un manuale per il successo. Ha preso l'iniziativa per imparare, crescere e cogliere le opportunità che si sono presentate. È facile dire, sono solo un commesso di un negozio di alimentari. È molto più difficile dire, posso essere di più. Tutti abbiamo quel seme dell'ambizione dentro di noi. La domanda è, lo innaffierai? Gli darai l'attenzione che merita? La tua situazione attuale non è la tua destinazione finale, a meno che tu non scelga che lo sia. Prendi il controllo. Impara. Cresci. Cogli il giorno.